Se tu crei il tuo sito, la gente ci deve andare. Cioè se uno non va nel tuo sito, non paga. Generalmente se uno ti chiama, ah sai ho sentito dire che fate bene, il primo step da fare è andare sul sito, vai su quel maledetto sito. Perché se non vedi il mio sito, con me non ci lavori. Segnatevela questa roba. Se tu non passi attraverso il mio sito e non hai visto qualcosa di me, con me non ci lavori. Non ti do le info al telefono. Ti vai a vedere quel maledetto sito. Devi obbligare la persona a finire nel tuo funnel. Perché? Perché poi quello che vedremo, c'è anche una strategia su questo, no? Perché io continuo a mandare la gente in quella maledetta pagina del webinar? Perché poi li ritargetizzo. Hai capito? Cioè se uno mi chiama per telefono, ah ciao Matteo, mi ha dato il tuo numero questo amico, ho scoperto che fai marketing digitale, cosa mi puoi insegnare? Guarda, la prima cosa da fare è andare su quel cacchio di webinar. Gli do il link, lui ci va. Ma una volta che l'ho mandato lì, lo ritargetizzo, lo continuo a martellare e lo continuo a mandare lì finché non paga. Ok? Però è essenziale che ci vada almeno una volta, perché altrimenti non posso riacchiapparlo, non posso ritargetizzarlo. Quindi è importante che la persona vada a vedere il tuo, la tua casa su internet. Almeno una volta, la devi mandare lì. Ok? Io sono molto un fan del ti obbligo a fare certi passi. E se sei un cavallo impazzito che non mi segue, ciao. A meno che tu non sia pronto a pagare, non perdo tempo con te. Quindi sul sito dobbiamo dare un link magnet? Cioè un qualcosa per prendere l'email? No. Ok? Questo lo vediamo nel prossimo webinar. Nel prossimo webinar vi darò la struttura del sito. Però per rispondere in anticipo a Gianni, quello che va molto in questo momento è un sito ibrido. Cioè non vanno più le landing page e basta, e non vanno più i siti e basta. Il top è un sito ibrido. Cioè se io in un sito trovo il modo di catturarti i dati, ho vinto. E lo vediamo al prossimo webinar. Ok? Nel prossimo webinar vediamo quello. Quindi se prende gli dati oppure no. La risposta è sì, cercherò sempre di prendergli i dati, dandogli qualcosa in cambio alla gente, tipo un preventivo gratuito, un bonus, un ebook, un qualcosa da scaricare. Cerco sempre di prendergli i dati. Ma glieli prendo in un sito molto più completo rispetto ad una pagina con tre parole. Cioè un tempo andavano queste landing page con tre parole e dammi l'email. Adesso non funziona più. Adesso la gente vuole un sito ben fatto, che segue una logica, che spiega tutto. È un po' come il network marketing, dai ragazzi. Chi di voi fa network lo sa. Quando tu dici a una persona, ah vieni che ho una cosa da farti vedere, no ma che cos'è, no non te lo posso dire. Cioè non funziona più, tu devi dirgli alla gente che cavolo fai. Grazie per aver visto questo video. Fammi sapere nei commenti se ti è piaciuto. E ti ricordo che le iscrizioni per il prossimo mentor program sono ufficialmente aperte. Il mentor program è l'occasione di lavorare insieme a me e Fabio Gallerani per otto settimane per creare assieme il tuo successo. Negli ultimi anni io e Fabio abbiamo generato milioni di euro su internet con le nostre attività, ma non solo questo, soprattutto abbiamo aiutato centinaia di imprenditori, proprio come stai vedendo in questo momento, a lanciare la propria attività su internet, posizionarla nel mercato con estremo successo e raggiungere il loro vero potenziale. All'interno del mentor program avrai la possibilità di partecipare a dei webinar esclusivi con un gruppo ristretto di persone dove ogni settimana andremo a svelarti tutti i segreti del marketing digitale e tutto quello che devi fare per lanciare la tua attività online con successo. Tutte le informazioni sono all'interno di questa pagina, ovunque tu stia guardando questo video ho inserito il link, ricordati che i posti sono ultra limitati. Per qualsiasi informazione visita la pagina e contatta il nostro supporto. Ti mando un abbraccio grande e mi auguro di vederti all'interno del mentor program per creare assieme il tuo successo.